Ben trovati con le previsioni del tempo a cura di Meteocalabria.net. Caldo intenso e stabilità ci terranno compagnia per diversi giorni, temperature diurne anche costantemente oltre i 40 gradi nelle pianure più interne. Martedì 27. Cuello in genere sereno opaco per la presenza di pulviscolo desertico in sospensione nell'atmosfera. Locali annuvolamenti saranno possibili al pomeriggio su Pollino e Sila con la media probabilità di veloci fenomeni sempre molto localizzati. Venti deboli a regime di brezza, mari calmi e temperature molto alte, anche superiori ai 40 gradi fra Valle del Crati e Piana di Sipari. Monologo anche per mercoledì 28 luglio. Caldo intenso e tanto sole, salvo locali annuvolamenti, al pomeriggio sui monti del Pollino e della Sila. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!